Bella ragazzi, come sempre ZAMP che vi parla e finalmente dopo tanto tempo sono tornato con un nuovo Q&A Sapete benissimo come funziona, ormai perciò partiamo subito con la prima domanda Inside Jonatz Q&A, ti depili Lano? Ma cioè, ma io mi chiedo, ma queste domande, ma da dove riescono? Cioè, non riesco a spiegarmelo, perché veramente, mi puoi chiedere se mi depilo Lano? Comunque, no, stai tranquillo, non me lo depilo, eh? Con calma Matteo Tripodi, Q&A, hai mai avuto un momento di rabbia che ti ha fatto dire qualcosa di davvero brutto a qualcuno? Bella ZAMP, allora, devo essere onesto, una volta mi è capitato Mi è capitato, ovviamente nei confronti di chi? Ma di mia madre, giustamente, quella povera santa donna che si è beccata una raffica di insulti Che adesso, veramente, non ricordo nemmeno per quale motivo io l'avessi insultata così pesantemente Però, niente, l'ho detto delle cose davvero tante cattive, tanto cattive Se io fossi stata mia madre in quel momento, penso che, tipo, opzione numero uno, mi sbattevo fuori di casa Opzione numero due, prendevo una frusta e cominciavo ad ammazzare mio figlio di botte Fino al sangue, fino a che non implorava pietà E mi veniva lì e mi diceva Scusa mamma, ti prego, non lo farò più, ti te lo giuro Ecco, avrei fatto una cosa del genere Luca Carlesso, voi youtuber, te, Gabbo, Johnny, Ron e gli altri Sapete di essere una sorta di modello per alcuni giovani italiani? Bella zampa Allora sì, purtroppo, diciamo, ultimamente c'è un trend sempre più in crescita Che, appunto, considerano i youtubers come dei modelli di persone da seguire Questa è una cosa che, onestamente, a me non è mai piaciuta Perché non mi piace essere preso a modello In quanto sono una persona che ha tantissimi difetti Poi, magari, ho anche qualche qualità Però, se mi seguite non solo su YouTube, ma anche su altri social Vedete che sono una persona, appunto, piena di difetti E quindi, non vorrei che voi seguiste ogni mia singola azione Cioè, per carità, se faccio cose belle, magari prendetele anche a modello Perché ne sono contento, sarò servito a qualcosa nella vostra vita Però, se vedete che, magari, un giorno posto una foto Dove sto facendo una cosa X Che voi reputate sbagliata Non consideratela giusta solamente perché la sto facendo io Perché io, nel cuor mio, so che sto sbagliando nel farla E so che sto sbagliando nel pubblicarla in un social Perché non ci sono abituato Io sono rimasto a quando avevo un profilo con, tipo, 20 amici E adesso ho sempre quei 20 amici Ma 22.000 seguaci Quindi 22.000 persone che vedono la mia foto Ecco, a questo ancora non mi ci sono abituato Però, voi, appunto, sappiate sempre discernere Tra quello che è giusto e quello che è sbagliato Perché io non so Gesù Cristo Quindi, sbaglio come tutte le persone Voi stiate solo attenti, appunto, a non cadere in errore Solamente per seguire noi youtubers Che non siamo divinità, punto Alessio Cappelli Chionei da piccolo Hai mai rotto qualcosa di costoso? E qual è stata la reazione dei tuoi genitori? Bella Zamp, sei un grande Allora, oggi siamo sempre in tema familiare Sì, mi è capitato di distruggere qualcosa da piccolo La prima che ricordo era un vaso Che credo fosse costato una fortuna a mia madre E io, raga, era una peste da piccolo Cioè, giravo per casa Correvo come una bestia E... Cos'è successo? Incorrevo tipo mia sorella Che, quella stronza, veramente Mi ha spinto Io finisco contro il mobile L'armadio sopra il quale era posto, appunto, questo vaso Lo vedo Cioè, la scena, immaginatevi la rallentatore Io così Prima guardo mia sorella e faccio No! Che cazzo hai fatto? Poi mi giro C'è il vaso sul mobile che comincia a fare E poi all'improvviso Bam! Mille pezzi Si sente l'urlo di mia madre dall'altra stanza Che già l'aveva capito Andrea! Che hai rotto? Che hai fatto? È venuta lì tipo il vaso distrutto E... So scappato So scappato perché penso che Se quel giorno io non fossi fuggito Tipo a nascondermi sotto il letto Non ricordo esattamente dove fossi andato ad imboscarmi Ma penso che se quel giorno Io non avessi compiuto quell'azione Non sarei qui a registrare questo video Adesso Sì, credo proprio che sarebbe andata così Mirko ha pensato Q&A Hai fatto o pensi di fare una vacanza in Sicilia? Sì, devo essere onesto Ci sono stato parecchie volte in Sicilia Grazie ai miei genitori Perché d'estate Ci è sempre piaciuto molto viaggiare Diciamo che grazie a loro Praticamente mi sono girato tutta Italia Vedendo le più belle opere d'arte E altro Perché appunto anche loro Sono grandi appassionati di cultura E appunto mi è capitato di andare in Sicilia Ricordo Siracusa per esempio Dove? Ecco, volevo dirvelo da tanto tempo Tornerò perché ci andremo in gita Di quarto superiore Appunto andremo a Siracusa Con tutte le quarte sezioni del nostro istituto Deliceo Classico Andremo gli ultimi giorni di maggio E visiteremo tipo il teatro greco Quei posti lì Poi penso che avremo anche tempo libero in giro per Siracusa Quindi se siete del posto Magari avrete la fortuna La fortuna? Sì, la fortuna Perché magari diciamo Non sarà semplice trovarmi Però magari potreste appunto Incontrarmi mentre sto andando in giro A fare shopping per Siracusa Quindi niente Sarò lì E spero di incontrare magari anche qualcuno di voi Comunque sia Voi seguitemi sulla pagina Facebook Dove sarete sempre aggiornati Su tutto quello che farò Scriverò anche quante volte sto cagando E quindi non avrete problemi Francesco Russo Un ragazzo che oggi veramente Ci stupisce con la sua intelligenza Con questa domanda Q&A Ma se c'è una Suzuki in mare Aspetta l'onda Boh Io veramente Come per quello di prima Che mi disse Che mi chiese Se mi depilassi l'ano Ma cioè Io dico Una battuta così brutta Ed infelice Penso Non farebbe ridere Nemmeno un malato terminale Anzi forse un malato terminale Sì senza offesa per loro Perché Cioè Stanno per crepa E quindi Parebbe ridere anche se io dicessi Oh guarda Sono stato al McDonald's Ho preso questa Coca Cola Era veramente buona eh James Rosa Ti stai facendo crescere la barba? Grande zampa Allora vi prego Non prendetemi per il culo Sulla barba Allora Ho 17 anni E quando c'è gente Che già a 16 Ha un barbone Della Madonna Io a 17 L'unica barba che ho Ce l'ho qui E qua sotto Che poi non è barba È una peluria schifosa E quindi sono costretto A tagliarmi costantemente Quindi io imploro Gesù Cristo Cioè Perché non mi viene anche qua? Ma cosa aspetta? Tra un po' finisco di crescere Se non ho già smesso Vuol dire che non avrò la barba a vita Giorgia Sabatini Mi fa una domanda Che potrei Eh Veramente Rispondere con migliaia di parole Ma tenterò di sintetizzare Q&A Perché da quando è iniziato il nuovo anno Nintendo 2014 Fai sempre meno video? Perché prima Nintendo 2013 2013 ne facevi tipo uno al giorno E poi adesso Non metti più Non metti più nemmeno l'intro Più saresti comunque un grande Allora Grazie mille per il discorso dell'intro Comunque non la mettevo più Semplicemente perché mi aveva stancato E non ho nessun altro Che me ne faccia una decente E allora Perché da quando è iniziato l'anno Faccio sempre meno video? Allora Ho scritto pochi giorni fa Beh oddio Per quando ci resta un video Magari sarà passata anche una settimana Comunque ho scritto tempo fa su Facebook Un post Nel quale vi dicevo Che quest'anno Veramente è un casino Perché non so se vi siete perso Il video in cui dicevo Che iniziavo un corso di inglese Pomeridiano Di 80 ore Ma io appunto Esco da casa Alle 8 di mattina E torno alle 6 del pomeriggio Considerate poi Che devo studiare Per il giorno dopo Perché i professori Ci avevano promesso Quando ci siamo iscritti A questo benedetto English for you Sì state tranquilli Grandi benefici Non vi interrogheremo I giorni dopo Invece no Non gliene frega un cazzo a nessuno Tutti interrogano Ok? Quindi io arrivo a casa alle 6 Studio fino alle 7 Poi Un'oretta Stacco Ceno E poi sono talmente distrutto Che o guardo qualcosa in tv Oppure veramente Mi butto sul letto Non mi alzo più Perché io non ho più La forza di fare un cazzo E gli unici momenti liberi Che ho appunto In cui non sono morto Li uso per registrare video È vero C'è stato un periodo In cui veramente Ne ho fatti pochissima Perché non avevo più tempo Di fare niente E adesso sarà così Arriveranno altri periodi Prima della fine Dell'anno scolastico In cui Mi vedrete scomparire Però purtroppo Non è colpa mia Cioè C'ho tanta di quella carne al fuoco Che non riesco più A gestire niente Io non ho capacità organizzative Quindi giustamente Non mi avvantaggio mai E poi mi ritrovo tutte le cose All'ultimo momento Però Che ci volete fare? Sono fatto male Sono fatto così Ognuno ha i suoi difetti Detto questo appunto Adesso spero di Ogni tanto Appunto riempirvi questi buchi Appena un attimo di tempo Con i miei video Però Non ve la prendete troppo ragazzi Purtroppo È così Yuri D Un altro che oggi ci stupisce Con la sua grandissima intelligenza Domanda Ma se hai scelto il classico Perché sei negato in matematica? Perché Solitamente Avevi pure latino e greco sotto Che sono materie importanti Ma Ti sfugge un particolare importante Alle medie Non si studia latino e greco Quindi Come facevo a sapere Se sarei andato bene o male In queste due materie? Non potevo no? È molto semplice come cosa Perché non ci arrivi? Alessandro Airjoker31 Insomma Ansaidro Ma Q&A Come fai ad avere i capelli così? Non mi sembra che sia niente di trascendentale Io vado dal parrucchiere E dico Guarda Come sempre Perché tanto ormai Lo sa come me li deve fare E niente Corti ai lati E un po' più lunghi sopra Lasciando un po' di ciuffo così E buono Capelli parti Cioè Non è che ci voglia più di tanto Poi Vabbè Voi non mi avete mai visto da dietro A meno che non mi abbiate Visto di persona qualche ad uno Però veramente C'ho un girello mostruoso Cioè c'ho tipo La cosa così Sembra la cresta d'un gallo È una cosa assurda Io per i capelli Ci ho sempre avuto da combattere Non so quanto Anche perché Meritario Due settimane dopo Si riallungano Mostruosamente Cioè io devo stare sempre Dal parrucchiere Dalla mattina Alla cazzo di sera Ebbene ragazzi Questo Q&A è finito Io come sempre Spero vi sia piaciuto In caso vi sia piaciuto Lasciate un bel piaccio Commento se ti ho ancora fatto Di iscrivervi al mio canale Ci vediamo con un prossimo video Bella ragazzi Ciao da Zampetti Bella